Eccoci qua, bene, siamo pronte per cominciare questo meraviglioso evento insieme. Io e Miriam siamo super entusiaste di cominciare, quindi benvenute a tutte a questo corso di Inner Power che sta giungendo ormai al termine, ma attraverso questi giorni insieme noi siamo state capaci tutte quante, ormai siamo più di 500 iscritte a questo corso, quindi è qualcosa di veramente meraviglioso poter vivere tutte insieme, abbiamo fatto sì che in questi giorni ognuna abbia potuto risvegliare il proprio potere di manifestare la propria guida interiore e i propri intenti più grandi ovviamente. Noi siamo arrivati oggi al gran finale dove ad attendervi ci sarà un super evento ricco di contenuti e di sorprese esclusive, ma prima passiamo alle presentazioni perché può essere che qualcuno ancora non ci conosca e quindi per chi ancora non mi conoscesse io sono Jessica Pellegrino, mi definisco una Divine Manifestor e ti guiderò in questo viaggio multidimensionale dove uniremo al channeling l'arte meravigliosa della manifestazione e anche la maestria cosmica per rendere la spiritualità una pratica concreta e l'energia universale il tuo canale di manifestazione e crescita sia personale che imprenditoriale. E ovviamente ho detto all'inizio ci perché c'è sempre con me la mia grande compare in questo percorso meraviglioso, ovvero Miriam Bruera a cui lascio la parola. Ciao Miriam! Ciao Jessica, ciao a tutte! Siamo arrivate alla quarta puntata del percorso di Inner Power ed è stato bellissimo fare questo viaggio insieme a tutte voi in queste quattro giornate. Io sono Miriam Bruera, sono una business coach e da diversi anni aiuto le professioniste e le imprenditrici a far nascere e crescere i loro business in una maniera allineata alla loro anima. Nei miei percorsi unisco strategia e spiritualità proprio perché in questo modo riusciamo ad espandere i nostri business e raggiungere la nostra realizzazione. Con Jessica troviamo proprio questo bel punto di congiunzione. Questo canale che ci unisce da ormai da tanti anni ci ha portato a essere amiche, colleghe, co-creatrici di percorsi come questo nei quali crediamo profondamente perché l'inner power è presente in ognuna di noi e quindi siamo felicissime di aver fatto in questi giorni questo viaggio con tante donne power, un viaggio di risveglio del potere personale, un viaggio di riconnessione con noi stesse per poi portare tutto questo all'esterno nella realizzazione di risultati concreti per la vostra vita e il vostro business. Quindi intanto complimenti per essere arrivate fino a qui. Esatto, esatto, infatti sono stati tre giorni veramente meravigliosi e in questi tre giorni entusiasmanti anche aggiungerei abbiamo vissuto dei momenti dove abbiamo esperienziato come osservare, come evolvere, ma anche come trasformare la nostra mente attraverso i suoi pensieri, il nostro corpo attraverso le sue percezioni e anche la nostra anima con le sue intuizioni e abbiamo unito tutto questo alla connessione più autentica che possiamo attuare con noi stesse per attingere al nostro potere e farci così il canale di connessione tra cielo e terra ma anche tra spiritualità e materia e accedere così alla nostra maestra cosmica. Abbiamo scoperto come entrare anche in unione con noi stesse e ad attingere al nostro meraviglioso potere ma adesso siamo anche pronte a compiere un passaggio ulteriore come amo spesso dire consapevolezza e potere e noi possiamo partire da tutte le consapevolezze che abbiamo maturato in questi primi tre giorni per rendere concreta la manifestazione del nostro potere. E qui non si tratta di entrare nel lupo infinito del fare 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 ma non si tratta nemmeno di aspettare che l'universo ci mandi la manifestazione che cerchiamo si tratta di tutt'altro in realtà. Già di per sé se ci pensiamo il termine manifestazione ci suggerisce che per manifestare noi stesse è necessaria un'azione. Pensiamo proprio alla parola manifest e azione. manifest che in inglese significa manifestare è azione quindi vediamo che per manifestare il nostro potere possiamo scegliere di compiere un'azione che sentiamo allineata a noi stesse un'azione che diviene per noi anche allineata all'unicità che risiede in ognuna di noi e che al suo interno porta con sé anche un intento che desideriamo realizzare. Quindi si tratta di compiere con fiducia dei passi in cui crediamo fermamente e che ci porti ad attingere a quella fiducia sconfinata che possiamo imparare a nutrire anche attraverso i sentieri del channeling ed è per questo motivo che ci siamo soffermate così a lungo su questo strumento meraviglioso perché la connessione che siamo riusciti a creare con noi stesse e le consapevolezze che ne sono generate ci permette di ampliare la nostra prospettiva di ampliare anche le possibilità che ci sono davanti a noi per poter incarnare il nostro pieno potere e oltre tutto questo in realtà noi abbiamo anche visto che abbiamo potuto anche esperienziare attraverso la connessione che possiamo praticare con noi stessi ogni giorno come poter risvegliare quel potere quindi in realtà in questi tre giorni noi abbiamo dato degli strumenti che sono stati utili e applicabili fin da subito sia per comprendere meglio questi sentieri ma anche per cominciare a praticare con le attività proposte ogni giorno sia via mail ma anche come regali che vi abbiamo lasciato qui ad ogni video giornaliero abbiamo visto che tutto questo in realtà già ci dà e ci consente di avere un bagaglio importante e adesso possiamo proseguire ancora in un percorso che mi viene da dire è di crescita continua siamo un continuo work in progress e possiamo accompagnarvi in tutto questo passo dopo passo giusto Miriam? abbiamo infatti percorso diverse tappe insieme in queste giornate ci siamo riconnesse al nostro purpose ci siamo aperte a nuove opportunità abbiamo trovato una connessione con la nostra anima abbiamo iniziato a compiere delle azioni allineate a chi siamo davvero e questo fa parte proprio del percorso Inner Power che ogni anno arricchiamo di nuovi contenuti e dalla seconda edizione abbiamo infatti aggiunto lo strumento del channeling che noi abbiamo prima sperimentato personalmente nella nostra vita e nel nostro business e poi abbiamo visto che era uno strumento così efficace che abbiamo scelto di condividerlo anche nei nostri percorsi perché può essere un grandissimo supporto quando abbiamo un intento importante che ci sta davvero a cuore e desideriamo avere anche delle guide amorevoli al nostro fianco che ci possono passare dei messaggi che ci aiutano poi a passare all'azione la scelta è sempre nelle nostre mani quindi si tratta di avere una guida saggia che ci aiuta ulteriormente a trovare la connessione con la strada giusta per noi e questo è il motivo per cui siamo oggi giunte al termine del nostro percorso di Inner Power ma come tutti i viaggi che si rispettino chiudiamo un cerchio per aprirne un altro un cerchio di espansione e di evoluzione ancora più grande vi avevamo accennato che ci sarebbe stata una sorpresa nella live di oggi e infatti ci prepariamo a compiere tutte insieme il prossimo step perché per chi è pronta ad andare oltre per chi è pronta ad approfondire ulteriormente questo viaggio di manifestazione dei propri intenti più importanti c'è una grande possibilità che si apre proprio oggi e vogliamo raccontarvela in questa live che durerà circa un'ora in cui sarete in nostra compagnia e vi racconteremo quali sono i prossimi passi per chi desidera proseguire il viaggio e risvegliare ancora di più la donna Power presente in ognuna di noi Siete pronte, care donne Power? Assolutamente sì e direi che non possiamo che presentarlo con queste meravigliose grafiche che ci accompagneranno proprio a comprendere come possiamo manifestare appieno il nostro potere interiore e quindi andiamo proprio a dare una panoramica a tutto quello che abbiamo detto finora e a scoprire come tutto questo in realtà ci accompagna a rivedere e a scoprire anzi un metodo che noi abbiamo definito Power appunto quindi abbiamo creato questo metodo meraviglioso che ci consente di attuare una nostra realizzazione personale ma anche professionale dove poterci connettere veramente al nostro potere ed esperienziarlo in ogni sua sfumatura possiamo manifestare grazie a questo metodo la nostra guida interiore quindi quella capacità interiore di poter svegliare la nostra divina essenza e accompagnarci lungo il nostro cammino di realizzazione quindi tutto questo in realtà ci permetterà di vedere osservare ma anche percepirci come canali e in quanto tali possiamo portare un impatto più grande nel mondo e quello che vogliamo portare io e Miriam attraverso questo percorso di Power è vedere come questa evoluzione personale può divenire anche professionale perché noi diamo uno strumento che in realtà può essere utilizzato anche per la propria professione e lo portiamo a un livello successivo quindi aiutiamo attraverso la scoperta di questo potere a compiere un passo di elevazione importante e questo ci porta come dicevo prima a portare la nostra impronta a portare e ampliare un impatto più grande nel mondo e quando parlo di ampliare la nostra evoluzione anche da un punto di vista personale lo diciamo a ragion veduta perché questo percorso non è solo un percorso esperienziale dove andiamo a sperimentare in prima persona il nostro potere e a scoprire una metodologia che ci aiuta a trovare la nostra modalità per raggiungere i nostri intenti ma qui portiamo anche degli strumenti che come dicevo prima sono professionalizzanti quindi diventerete anche delle channeler ovvero delle guide in grado di canalizzare attraverso degli strumenti specifici che ovviamente vi porteremo anche all'interno del percorso che vi aiuteranno a fare quello che avete visto da noi negli ultimi tre giorni pensate anche solo a ieri quando abbiamo provato per voi a canalizzare dei messaggi dalle guide quello è come vi dicevamo anche ieri la punta dell'iceberg è solamente quello che possiamo mostrare all'esterno ma in realtà c'è tutta una calibrazione interiore e in quella calibrazione in realtà noi andiamo a vedere che lo esperienziamo grazie allo strumento del channeling uno strumento che noi arriveremo a trasmettervi e a insegnarvi in ogni sua parte accompagnandovi passo dopo passo per potenziare la vostra maestria cosmica ed è qualcosa di meraviglioso perché abbiamo visto anche come nelle persone ha cambiato tantissimo la vita quindi andiamo a vedere insieme come vivere questa avventura entusiasmante e come compiere questo primo passo che ci permette di attingere al nostro potere interiore quindi fare quel passaggio all'azione di cui vi menzionavo all'inizio e portarci così in quella direzione in quel percorso che ci permette di ottenere dei risultati che siano tangibili e qua vi presentiamo il nostro percorso con un bellissimo video a me ispira sempre molto questo video ma ha dato diciamo una panoramica del tipo di viaggio che potremo vivere insieme e avete cominciato a vedere alcuni elementi che adesso andremo a spiegarvi in modo più approfondito così da darvi anche fin da subito degli strumenti per comprendere come potete cominciare a scoprire questa metodologia che io e Miriam abbiamo creato da zero e che in realtà ha portato risultati meravigliosi a coloro che hanno scelto di unirsi a questi gruppi di potere incredibile ma intanto prima di arrivare a esplorare più approfonditamente queste tappe che avete cominciato a vedere attraverso il video andiamo a capire concretamente proprio perché la tematica è proprio questa capire in maniera solida e concreta che cosa possiamo realizzare attraverso queste esperienze che noi vi stiamo portando in questi giorni di formazione ma anche di esperienza collettiva abbiamo creato Power proprio con l'intento di vivere un viaggio tutte insieme per aiutarci in sei mesi in questo caso perché è un percorso che durerà ben sei mesi per aiutarci ad accedere alla nostra versione potenziata e scoprire anche come poter manifestare la nostra indipendenza e la realizzazione che sentiamo di voler vedere concretamente nella nostra vita e quindi è qui che vediamo il passaggio di concretezza dove da un intento che possiamo definire all'inizio del percorso andiamo a vivere un viaggio dove faremo delle esperienze stratosferiche di ogni tipo su ogni dimensione di mente, corpo, anima acquisiremo lo strumento del channeling che ci aiuterà proprio a vedere come unire tutte queste parti e portare un'azione dopo l'altra a scoprire come nella nostra vita tutti quei tasselli trovano il suo perfetto incastro e arrivare poi alla conclusione dei sei mesi a vedere i nostri intenti che sono realizzati o che sono in fase di realizzazione a seconda del tipo di intento che scegliamo di portarci però ecco la concretezza sta nel fatto che noi portiamo ogni giorno un valore aggiunto a quel quotidiano che stiamo vivendo e in quel valore noi possiamo portare delle azioni allineate che ci portano a progredire anziché rimanere nella stasi e questa parte credo che sia fondamentale perché tante volte ci diciamo di voler realizzare qualcosa di importante nella nostra vita però poi rimaniamo lì perché fondamentalmente non sempre sappiamo come attuare quel progresso come attuare quella crescita in ognuna di noi e questo invece è una modalità con il quale possiamo lasciarci guidare da questo percorso meraviglioso oggi potrebbe essere il momento ideale il momento perfetto il momento che ricorderete anche nei mesi a venire dove compirete la vostra scelta quindi metterete in atto il vostro potere diventando una donna power con questa scelta noi apriamo le porte alla maestra cosmica e diamo inizio al nostro viaggio multidimensionale e qui trovate la mappa del metodo power che è un metodo che abbiamo co-creato personalmente e che va proprio a descrivere i momenti salienti del percorso per manifestare nel mondo la donna power che è già presente in ognuna di voi e il punto di partenza è il purpose avere un forte perché che ci guida quell'intento che per ognuna di noi sarà l'inizio di questo viaggio e poi opening aprire aprire la vita nuove opportunità nuove esplorazioni a nuovi passi che vengono compiuti in direzioni inedite e poi woman perché questo è un viaggio al femminile un viaggio dove troverete delle compagne di viaggio che sentirete come delle sorelle d'anima vi sembrerà di conoscerle da tantissimo tempo anche se magari è la prima volta che le incontrate e su questo abbiamo delle esperienze molto emozionanti delle prime due edizioni di Power perché si è creato un legame bellissimo tra le partecipanti c'è stata una vera sorellanza un supporto molto profondo ognuna ha fatto il tifo per la realizzazione degli intenti dell'altra e anche le condivisioni gli scambi e i feedback sono stati molto belli estremamente profondi e di grande supporto e ispirazione reciproca e tutto questo porta a far nascere un'energia diversa a innalzare le frequenze di ognuna di voi inizierete proprio a vibrare su nuove lunghezze d'onda anche grazie proprio all'integrazione dello strumento del channeling che diventa uno strumento quotidiano per connettervi con voi stesse con le vostre guide di luce e riceverne intuizioni saggezze profonde che poi potrete applicare nel cammino di realizzazione del vostro intento e tutto questo porta a dei results a dei risultati concreti visibili nella materia questo è proprio un percorso che porta l'intento a tradursi in materia a tradursi in concretezza è un percorso interiore estremamente profondo che poi diventa visibile anche all'esterno in manifestazioni concrete di risultati che potete vedere toccare che diventano tangibili e questo è il favoloso metodo di Power e adesso ci teniamo proprio a condividere con voi le parole delle partecipanti alle precedenti edizioni di Power perché chi ha già lavorato con noi sa quanto sono potenti questi strumenti ha potuto sperimentare in prima persona questo metodo ad esempio vediamo la storia di Roberta questa è una storia bellissima perché Roberta ha fatto davvero un grande cammino di trasformazione interiore che poi è diventato visibile anche all'esterno e consiglia il percorso Power proprio a coloro che vogliono conoscersi meglio trovare dei momenti per se stesse e ritrovare degli aspetti della propria vita che magari avevano dimenticato e Power è un'occasione per rimettersi in gioco per riaprire quel cassetto per ritrovare quel sogno per riconnettersi con quell'intento e Roberta ci racconta anche qual è l'approccio migliore per vivere questo corso traendo il meglio da tutti questi strumenti che vengono messi a disposizione lasciarsi andare avere fiducia farsi guidare e nel percorso Power ci sono dei video che troverete nella piattaforma e poi ci sono delle live esperienziali che vengono fatte con tutte le partecipanti e Roberta racconta che queste live sono state piacevoli e rigeneranti e queste parole ci hanno molto emozionate perché era proprio questo l'intento creare degli appuntamenti che avessero un prima e un dopo si entra nella live di Power in un certo modo e si esce proprio rigenerate e ricaricate connesse con se stesse con le altre alla fine del percorso c'è un attestato di partecipazione ma soprattutto si riceve anche il diploma di Channeler che è una certificazione che potete usare anche nella vostra professione quindi se desiderate integrare questo strumento nel vostro percorso potrete farlo e adesso vediamo anche un video quindi sono state anche super coraggiose le nostre donne Power ci hanno lasciato anche delle video testimonianze e sentiamo proprio le parole di Elisabetta che ci racconta come ha vissuto la sua esperienza in Power Ciao sono Elisabetta e ho preso parte alla prima edizione di Power cercavo un corso che potesse aiutarmi a sbloccare alcuni desideri che già sentivo dentro di me ma che erano accompagnati da tanti punti interrogativi e che non riuscivo a mettere realmente a fuoco grazie a Power sono riuscita invece a mettere da parte queste paure e a capire come individuare e far emergere quello che realmente volevo a breve ma soprattutto a lungo termine ciò che ho apprezzato di Power sono stati sia contenuti sulla piattaforma che potevo svolgere quando volevo e quindi che svolgevo nel momento in cui mi sentivo effettivamente in connessione con questi quando ero pronta a lavorare su me stessa e non lo vedevo come un peso ma come anzi una bella opportunità e una bella attività che potevo dedicarmi e anche le live perché di mese in mese oltre al percorso di formazione al supporto delle coach si è creata una vera community tra noi ragazze e quindi riuscivamo anche a supportarci nella crescita a consigliarci e essere un ulteriore valore aggiunto l'una per l'altra consiglio quindi Power a chiunque desideri sbloccare qualcosa che pensa di avere già dentro di sé e raggiungere quello che è il suo obiettivo sono molto toccanti le parole di questa testimonianza ci emozioniamo anche noi nel risentire questi ricordi e del racconto di Elisabetta mi colpiva il fatto che ha evidenziato alcuni punti che avevano già trovato spazio nella testimonianza di Roberta quindi il valore del gruppo che si è creata una vera community le live esperienziali ma anche i dubbi che possono emergere durante questo percorso e che poi grazie al supporto delle coach delle altre partecipanti e dei contenuti si trasformano invece in opportunità di crescita e di raggiungimento dei propri obiettivi più grandi andiamo più nel dettaglio a scoprire questo viaggio quindi per accedere a questa maesteria cosmica per risvegliare la donna Power presente in ognuna di voi quali sono i passi del viaggio? questo è Power qui vedete alcune immagini di questo percorso e si trova su una piattaforma dove tutto è già ben organizzato in diversi moduli farete infatti un viaggio bellissimo in tre regni i contenuti vengono proposti gradualmente quindi si fa proprio un viaggio progressivo e al termine di ogni live viene proprio inviato il link per connettersi ai contenuti delle settimane successive c'è un incontro live ogni due settimane e poi c'è questo percorso molto completo di sei mesi che diventa un viaggio attraverso tre regni che tra poco andremo a svelarvi e che rappresentano proprio tutte le tappe di realizzazione dei propri intenti un viaggio interiore che poi si trasforma in azioni concrete che poi diventano un'ulteriore evoluzione in un percorso ascensionale che porta proprio alla manifestazione di ciò che più desiderate i contenuti come vedete sono molto ricchi e come abbiamo già accennato farete un bellissimo viaggio attraverso tre regni che adesso andiamo a svelarvi il primo regno è il regno della notte questo come dice anche il nome stesso è il regno dell'introspezione qui andrete a conoscere molto più in profondità le vostre luci le vostre ombre le andrete a integrare ad abbracciare sarà un viaggio di scoperta di voi stesse magnifico e qui entrerete nel primo sentiero del channeling il sentiero lunare qui voi riattiverete la vostra capacità di essere un canale di luce cosa significa essere un canale di luce significa aprirsi alla possibilità di ricevere messaggi dalla propria anima e dalle proprie guide di luce quindi qui inizierà il vostro viaggio come channeler e il regno successivo è il regno del giorno dopo la fase più introspettiva nel regno della notte qui andiamo fuori andiamo all'esterno questo è il regno del passaggio all'azione il regno dell'auto efficacia e il regno delle azioni ispirate che vengono messe in campo in cocreazione con l'universo perché quando siamo connesse e ci mettiamo in azione anche l'universo ci sostiene in questo cammino e in questo regno andrete ad attivare il secondo sentiero del channeling il sentiero solare e qui andrete a connettervi con la propria guida interiore andrete proprio a connettervi con la vostra parte più saggia più intuitiva potrete dialogare con la vostra anima e trovare un equilibrio tra le varie parti di voi quindi questo è anche un regno di integrazione perché l'azione ispirata deriva proprio anche da un'accoglienza di tutte le nostre parti e poi concluderemo il viaggio con la ciliegina sulla torta quindi il terzo regno il regno dell'alba questo è il regno in cui l'azione passa ancora a un livello successivo l'azione diventa espansione quindi è un regno in cui celebriamo i risultati raggiunti chiudiamo dei cerchi per aprirne altri ancora più ampi e entriamo in una meravigliosa spirale ascensionale di realizzazione e di crescita perché poi è un viaggio che non finisce mai è un viaggio che continua sempre ad accompagnarci e qui vi potrete elevare verso frequenze ancora più alte e arriverete finalmente al terzo sentiero del channeling e le partecipanti alla seconda edizione di Power non vedevano l'ora ci chiedevano sempre quando le avremmo accompagnate nel terzo sentiero perché ormai nel secondo sentiero ci avevano preso gusto con questa capacità di dialogare con la loro anima e desideravano connettersi con le guide di luce nel sentiero dell'alba anche la capacità di essere un canale si espande ancora di più e qui dopo la connessione con la nostra anima arriviamo a una connessione cosmica che ci consente di incontrare guide maestri ascesi esseri di luce di diverse dimensioni pensate a che meraviglioso potenziale di crescita si può trovare in queste dimensioni dove in ognuna di esse sono presenti numerosissimi maestri io penso che non basti una vita per incontrarli tutti è davvero magnifico e quindi vi confermo che è stato molto apprezzato il terzo sentiero e proprio a proposito dei sentieri del channeling andiamo ad approfondire di che cosa si tratta perché magari per molti di voi è la prima volta che sentite parlare del channeling il channeling è una modalità di canalizzazione significa diventare un canale che può ricevere messaggi dalla propria anima e dalle proprie guide di luce e in power vi accompagniamo progressivamente in questi sentieri fino ad arrivare ad avere una vera e propria certificazione come channeler che vi permetterà di canalizzare in autonomia e se lo desiderate anche di integrare questo strumento nel vostro lavoro perché può essere una modalità che vi aiuta ulteriormente a essere delle guide dei punti di riferimento per le vostre clienti se avete una professione e volete inserire anche questo bellissimo strumento devo dirvi che è molto amato dalle persone che poi lo incontrano magari all'inizio si è un po' diffidenti perché non si conosce lo strumento non lo si è mai sperimentato ma una volta che si entra in questi sentieri è talmente bello che si vuole sempre tornare lì e quindi i benefici che potrete avere da questi sentieri è la capacità di aumentare la connessione quotidiana con voi stesse con la vostra anima riceverete delle guide estremamente amorevoli per la vostra evoluzione dagli esseri di luce avrete uno strumento che potrete anche integrare se lo desiderate a livello lavorativo e soprattutto riceverete delle iniziazioni questo è un aspetto molto importante in ogni sentiero ricevete un'iniziazione che va ad aprire il vostro canale di luce e vi aiuta anche a chiarire affinare la vostra capacità di canalizzare questo è molto importante perché si muove molta energia in questi sentieri grazie alle iniziazioni voi riuscite a dosare la capacità del vostro canale di passare queste informazioni in modo che tutto avvenga sempre al vostro tempo al vostro ritmo con grande amore per il vostro corpo fisico che supporta il passaggio di queste informazioni e potete godervi il viaggio in tutta sicurezza ma non è finita qui abbiamo ancora tante sorprese per voi quindi andiamo a raccontarvi più nel dettaglio che cosa vi aspetta nel percorso Power c'è una promozione speciale proprio per voi che state assistendo a questa live e quindi ci teniamo a darvi tutti i dettagli di questa incredibile opportunità se vi iscrivete a Power entro il 7 giugno alle ore 15 quindi segnatevi la data e l'ora 7 giugno alle 15 otterrete anche dei bonus incredibili io e Jessica a volte ci confrontiamo e diciamo certo siamo un po' matte a dare tutti questi bonus ma noi siamo felici di darli perché ci teniamo che voi possiate fare un percorso il più completo possibile dandovi un valore incredibile innanzitutto avrete uno sconto super speciale sull'iscrizione al percorso Power che non si ripeterà più di ben 667 euro potrete partecipare ad un ulteriore corso online sulla manifestazione del valore di 222 euro il corso che si chiama appunto manifesta avrete uno spazio di domande e risposte di Q&A a tutte le vostre domande quindi noi saremo a vostra disposizione in piattaforma per rispondere ai vostri quesiti perché magari durante il percorso vi verranno dubbi domande o anche piacevoli condivisioni che desiderate condividere con noi e questo spazio Q&A a vostra disposizione per sei mesi ha un valore di 597 euro ma non finisce qui perché c'è anche una masterclass sulla leadership al femminile perché leadership è potere personale capite bene che vanno proprio a braccetto e sono proprio due temi che si completano l'uno con l'altro del valore di 147 euro se fate un conteggio il valore di questi bonus è incredibile 1633 euro di bonus e soprattutto la comodità di fruizione voi troverete tutti i contenuti in un'unica piattaforma riservata solo alle scritte al percorso e il bello è che i vari moduli di Power saranno per voi accessibili in ogni momento e su tutte le tipologie di dispositivi quindi dal vostro computer dal vostro tablet e se magari siete in giro avete quei 20 minuti e volete vedervi un video di Power potete farlo anche dal vostro smartphone quindi una estrema flessibilità esattamente anche perché adesso vi mostriamo qual è l'interno della piattaforma e cosa vi portate dietro da pc tablet e anche da smartphone come vedete abbiamo già una piattaforma interattiva dove potete accedere ai diversi regni in modo molto intuitivo e anche un po' magico come potete vedere dall'interno della piattaforma c'è anche una sezione dedicata al channeling e potete vedere appunto come è tutto ben organizzato quindi avete la sezione recensioni lo spazio Q&A se volete fare degli annunci o comunque noi ne faremo eventualmente anche qui e qui trovate tutti i contenuti tutte le tappe del viaggio trovate proprio tutto ben suddiviso e una cosa importante anche che ci teniamo a dire è che i video che noi andiamo a inserire all'interno della piattaforma sono funzionali affinché possiate vederlo anche pochi minuti alla volta quindi come vedete sono video molto brevi che hanno anche il loro corrispettivo testuale quindi come vedete è molto intuitivo andando su successivo accedete alla lezione successiva vedete che ci sono anche delle mappe insomma è veramente super magico questo percorso ma è anche veramente molto concreto perché all'interno noi abbiamo messo coaching abbiamo messo la parte energetica abbiamo messo il channeling abbiamo veramente lavorato su ogni livello multidimensionale possibile affinché ognuna di voi potesse accedere al proprio potere in modo personale e unico e tutti questi contenuti voi li potrete andare a riguardare a rileggere o ad esperienziare nell'arco delle due settimane tra una tappa e l'altra ma non è neanche necessario che vi guardiate tutto perché poi noi nelle live che faremo ogni due settimane andremo a fare delle integrazioni quindi in realtà sarà tutto veramente molto molto fluido molto naturale e il percorso seguirà veramente le vostre esigenze e i vostri ritmi andiamo a vedere insieme che cosa prevede questo percorso intanto abbiamo i tre moduli che saranno necessari per ottenere la certificazione in channeling quindi avrete la vostra channeling mastery compresa all'interno del percorso ci sono ben 63 lezioni visibili su piattaforma quindi oltre ai tre moduli ci sono 63 lezioni dedicate a ogni regno in più ci sono tre moduli suddivisi in quattro step quindi ogni regno è suddiviso in quattro sottotappe e quindi fino ad arrivare a un numero di 12 tappe come avete visto all'interno della piattaforma ci sono degli esercizi che potrete svolgere a vostro ritmo all'interno della piattaforma e la cosa interessante è che potete fare questi quiz e questi esercizi all'interno della piattaforma quindi non non è necessario avere carta e penna anche se vi trovate in giro poi vi daremo anche come indicazione di avere per voi un quaderno ma sarà per vivere l'esperienza in live con noi però quello che serve per svolgere i contenuti della piattaforma lo trovate già nella piattaforma c'è anche come vi dicevamo prima uno spazio q&a così se avete domande commenti condivisioni da fare oltre ai momenti che sperenziamo insieme ogni due settimane avete anche qua all'interno della piattaforma lo spazio per poterlo fare e sia io che Miriam siamo lì con voi per rispondervi c'è lo sconto speciale sul percorso che è riservato a tutti coloro che come voi hanno partecipato al corso di Inner Power quindi avete anche questo tipo di vantaggio c'è il corso online di manifesta che sono sicura amerete perché è uno dei percorsi più gettonati nella mia piattaforma e poi c'è una masterclass che io e Miriam abbiamo fatto sulla leadership che anche qui ha il suo sapore un po' magico ma è stata veramente molto utile a chi già ha avuto modo di guardarla e di praticarla tutto questo ha un valore di 1111 euro ovviamente ne avrebbe anche di più ma abbiamo deciso di dargli una quota come dire che porti ad equilibrio il valore che ha il percorso con anche il vantaggio di farlo comunque in un percorso di gruppo ma per chi decide di acquistarlo entro il 7 giugno può averlo a 444 euro quindi con questo numero magico noi possiamo appunto accedere a un percorso che in 6 mesi ha veramente tanto da donare e ci può portare a realizzare i nostri intenti in modo concreto oltre che avere una certificazione che ribadiamo essere professionalizzante voi in quanto channel potete appunto fare le vostre canalizzazioni anche per le vostre clienti quindi è qualcosa che a tutto tondo porta a delle realizzazioni veramente impattanti e c'è anche un di più perché se decidete di iscrivervi entro questa sera allo scoccare della mezzanotte avrete anche un bonus speciale che però abbiamo deciso di riservare solo alle prime 10 iscritte ovvero potrete avere una sessione di mentoring con me o con Miriam e implementare tutto questo al percorso che state facendo quindi sarà anche un aiuto in più per poter integrare quello che state esperienziando nel percorso di gruppo che farete appunto con entrambe andiamo a vedere dove potrete avere accesso a questo percorso questa è la pagina dove potrete vedere tutte le informazioni che abbiamo già cominciato a darvi vedete appunto come funziona Power quali sono le modalità in che cosa appunto si contraddistingue rispetto ad altri percorsi e avrete la possibilità qui di fare direttamente il vostro acquisto quindi vedete che qui c'è un tasto per acquistare il percorso cliccando sul tasto andrete direttamente al carrello che vi darà appunto la conferma del prodotto che avete inserito e visualizzando il carrello potrete procedere con il pagamento adesso vi facciamo vedere tutto ovviamente questo è il prezzo che sapete è a prezzo pieno che si trova generalmente è acquistabile anche in tre rate e con l'uso di Paypal se procedete con l'ordine inserite i vostri dati e potete proseguire con il pagamento del percorso che per voi sarà di 444 euro quindi qua inserite il nome inserite il cognome tutti i vostri dati che verranno utilizzati appunto solo per la fatturazione e quindi saranno assolutamente riservati il sistema di pagamento invece è esterno alla piattaforma quindi viene processato da Stripe se decidete di utilizzare la carta di credito oppure da Paypal qualora decideste di pagare attraverso Paypal vi basta poi accettare i termini e condizioni del sito e poi effettuare l'ordine come vedete è molto semplice come un qualunque e-commerce che potrete trovare appunto in tante altre piattaforme questo è semplicemente il procedimento per potervi unire al percorso di Power ovviamente se avete delle problematiche e non riuscite ad accedere o altro mi scrivete e vi aiutiamo senza problemi assolutamente se vi state chiedendo se questo percorso fa per voi siamo qui per darvi ulteriori motivi per partecipare al percorso Power vediamo ancora alcuni racconti delle partecipanti alle precedenti edizioni di Power Georgia ci racconta che questo percorso ha arricchito la sua vita grazie a questa combinazione unica tra il coaching e le attivazioni energetiche ha fatto chiarezza sui suoi obiettivi e ha vissuto una trasformazione su tutti i livelli in questa maniera integrata tra mente corpo ed energia e anche Georgia valorizza gli incontri di gruppo è stata piacevolmente sorpresa dagli incontri mensili dove ha trovato delle donne straordinarie ha creato delle connessioni ha dedicato anche del tempo a se stessa e questa opportunità ha avuto un impatto positivo su diversi aspetti della sua vita quotidiana e consiglia il percorso a quelle donne che stanno cercando dei benefici concreti e anche un sostegno autentico reale lungo il loro cammino e vediamo anche la storia di Claudia che ci ha inviato il suo video ciao a tutte mi chiamo Claudia ho iniziato il percorso di power che mi ha totalmente cambiato la vita perché avevo un po' perso la bussola e non riuscivo a raggiungere quegli obiettivi che mi ero prefissata avevo anche bisogno di raggiungere una maggiore stabilità emotiva dentro di me è stato un percorso meraviglioso dove ho scoperto tanto di me ho imparato a conoscermi davvero e ho iniziato a reagire e a prendermi cura anche di me stessa e adesso è passato un anno è stato un anno appunto meraviglioso ho raggiunto i miei obiettivi e ho imparato a conoscermi e ho iniziato appunto a prendere queste decisioni molto più impattanti che mi hanno cambiata dentro adesso so cosa voglio e so cosa voglio raggiungere quindi grazie Power ciao molto emozionante e ispirante anche la storia di Claudia che ha raggiunto i suoi obiettivi facendo una grandissima trasformazione e andando proprio a connettersi anche con le sue emozioni e questa è anche una parte importante di questo viaggio che parte dal regno della notte proprio con questa introspezione è uno dei dubbi che potete avere se siete delle donne molto impegnate nella vostra vita personale e lavorativa è il dubbio relativo al tempo ma avrò abbastanza tempo per seguire le lezioni di Power su questo ci teniamo moltissimo a rassicurarvi perché capiamo bene che il tempo è una risorsa preziosa è limitata questo è il motivo per cui abbiamo già impostato tutto il corso in piattaforma in modo tale che possiate accedere ai contenuti in totale autonomia in base ai vostri tempi e ai vostri ritmi e i moduli sono già divisi in brevi video che potete fruire dedicando al percorso anche solo pochi minuti al giorno e andiamo a ricapitolare ancora una volta quali sono tutti i benefici che potete portarvi a casa salendo a bordo di Power c'è un'offerta incredibile valida solo fino al 7 giugno mi raccomando alle ore 15 iscrivendovi entro questa data entro questo orario otterrete i tre moduli per la certificazione in channeling diventerete delle channeler certificate e potrete utilizzare questo strumento incredibile di connessione con la vostra anima e con le vostre guide di luce nella vostra vita e nel vostro business troverete ben 63 lezioni visibili sulla piattaforma sono già tutte divise in video brevi che vi richiedono pochi minuti e che potete fruire al vostro tempo e al vostro ritmo da qualsiasi dispositivo computer tablet o smartphone il corso è già suddiviso in tre moduli che corrispondono ai tre regni che vi abbiamo svelato il regno della notte il regno del giorno il regno dell'alba e all'interno di ogni modulo trovate già i contenuti divisi in quattro step quindi in totale sono dodici tappe che sono già inserite secondo una precisa sequenza in questo modo l'apprendimento sarà naturale e fluido per ogni modulo troverete degli esercizi quindi c'è una parte interattiva che vi aiuta a mettere subito in pratica i concetti che avete appreso e in piattaforma trovate anche lo spazio Q&A dove Jessica e io siamo a disposizione per rispondere alle vostre domande e dove potete anche condividere i vostri commenti con le altre partecipanti mi raccomando solo fino al 7 giugno alle ore 15 c'è uno sconto speciale sul percorso avete anche in regalo il corso online di manifesta per aiutarvi nella manifestazione dei vostri intenti e la masterclass sulla leadership al femminile e tutto questo per 444 euro quindi come vedete un'offerta davvero incredibile vi ricordiamo inoltre che se acquistate il percorso Power oggi questa sera stessa prima dello scoccare della mezzanotte quindi fino alle 23 e 59 oltre all'offerta incredibile che vi consente di accedere al percorso alla cifra di 444 euro avete anche che un bonus speciale questo è riservato alle prime 10 iscritte quindi affrettatevi perché potreste essere una delle prime 10 e potrete avere in più anche una sessione di mentoring one to one quindi proprio uno a uno individuale esclusiva per voi con me o con Jessica quindi un ulteriore supporto personalizzato durante il vostro viaggio e abbiamo ancora una sorpresa finale una testimonianza di Erika che ha partecipato alla seconda edizione di Power in cui abbiamo introdotto anche il channeling e che ci racconta quello che ha vissuto all'interno di Power ciao ragazze sono Erika e sono entrata in Power perché ho sentito un richiamo fortissimo verso il channeling conosco già Miriam e Jessica da un po' di tempo ho lavorato con tutte e due attraverso i loro percorsi o comunque i loro servizi e quando ho lanciato Power e ho visto che c'era il channeling ho detto accidenti era proprio quello che stavo cercando per espandere la mia vita espandere anche il mio business con uno strumento pazzesco allora il percorso di Power in realtà è un'avventura ma ve ne accorgerete che sarà proprio un'avventura sotto tutti i punti di vista è stato magico passare sei mesi in un ambiente meraviglioso con delle donne meravigliose e in un ambiente proprio privo di giudizio dove tu puoi essere e sentirti chi vuoi e chi sei e è stato veramente un abbraccio per l'anima oltre che l'apertura di un portale immenso che mi ha portato a fare dei viaggi che nemmeno pensavo di fare così potenti e così incredibilmente pratici anche che veramente non credevo quindi pronte a partire sarà un'avventura meravigliosa anche per noi è stato un richiamo forte quello di inserire il channeling in questa seconda edizione e vedendo questi risultati non possiamo che confermare che è stata una scelta connessa potente che ha creato queste magie e quindi sentir parlare di un ambiente in cui le persone sono libere di poter essere se stesse senza giudizio un'avventura vera e propria credo che queste siano le parole più belle molto probabilmente Jessica e io non avremmo potuto trovare parole migliori di queste per raccontarvi esattamente che cos'è Power e quindi noi vi aspettiamo per la terza edizione di Power con tutti i contenuti con il channeling con il gruppo che viaggerà insieme a voi con la nostra presenza è un viaggio incredibile e siamo sicure che anche questa edizione sarà un'esperienza straordinaria se questi contenuti queste testimonianze questa energia vi ha richiamato e siete pronte per Power sapete che è il viaggio giusto per voi in questo momento noi vi aspettiamo a braccia aperte questo è il momento di decidere siete pronte a credere in voi stesse a riattivare tutto il vostro potere personale a raggiungere risultati incredibili nella vita e nel business siete pronte a diventare una donna Power? Sì yes noi siamo qui siamo qui per voi siamo qui per co-creare ancora una volta un viaggio straordinario e siamo pronte a farlo insieme esatto quindi grazie a tutte per aver partecipato e per essere rimaste fin qui noi vi aspettiamo nel percorso di Power e ovviamente vi aspettiamo anche in questi canali per proseguire il nostro viaggio di maestria cosmica con nuovi contenuti e soprattutto con la nostra guida quindi grazie a tutte un bacione ciao